Siamo felici di essere qui al Marca come Olificio Zucchi, sono Giovanni Zucchi, direttore generale della società, rappresento la mia famiglia, mia sorella, mio padre e da 200 anni facciamo Olio di Semi, rappresentiamo qui le nostre bottiglie con oltre 25 marchi commerciali che vanno a coprire la maggior parte dei marchi delle catene distributive in Italia, la seconda azienda di Olio di Semi fa strumento sul mercato anche se il nostro marchio è un marchio che è poco conosciuto proprio perché la nostra missione dall'epoca della Stan nel 58 è fare marchi di terza. In realtà non solo facciamo questo e siamo felici appunto di essere qui al Marca ma abbiamo cominciato come azienda industriale nel 21 a Cremona ma dal 1810 c'è la nostra storia come polino artigianale, con l'insieme di lino che nella prima padana era fondamentale perché si usava sia per gli animali che per i tessuti per l'uomo e siamo arrivati alla sesta generazione e ci auguriamo di poter andare avanti e di andare in pensione e mia sorella come tra qualche anno non subito andrà a piacere la nostra padana. In questi anni oltre alla missione sulla private label siamo stati capaci di supportare questa idea con fatti concreti, siamo stati la seconda azienda alimentare ad avere la certificazione di qualità come il CSQA. Abbiamo dal 2000 la certificazione ambientale, pubblichiamo da 4 anni in bilancio di sostenibilità, siamo l'unica azienda del settore oliva semi che lo fa e quest'anno noi facciamo prima le cose e poi le certifichiamo, chiuderemo la certificazione si automila. Per noi essere qui è fare delle belle cose e farle in un modo estremamente responsabile.